Si svolgeranno dall'8 al 10 maggio tra l'Aquila e Pescara gli incontri tra i partner e stakeholders del progetto ArcheOS finanziato nell'ambito del Programma Europeo di Cooperazione Trasfrontaliera 2014-2020. Programma del quale partner la Regione Abruzzo insieme alla Regione Puglia, attraverso il Teatro Pubblico Pugliese, alla Regione Marche, attraverso Marche Teatro Scarle, alle città croate di Pazzine e Crivenica e all'Open Public University di Porec. A parlarne è l'Avvocato Paolo Di Salvatore, un progetto che comunque è finalizzato a costruire un sistema integrato di servizi per il patrimonio naturale e culturale con l'obiettivo di favorire uno sviluppo economico sostenibile delle aree interessate. Il progetto tecnicamente è caratterizzato da due fasi attuative, il Lead Partner del Teatro Pubblico Pugliese, la Regione Abruzzo e il progetto tende essenzialmente ad un'analisi del territorio attraverso l'ascolto del territorio stesso e quindi al coinvolgimento diretto di stakeholder che dovranno creare, quindi noi siamo partner e piloti di un nuovo modo di vedere i progetti europei, cioè creare essenzialmente un cluster di soggetti culturali che quindi sono interpreti diretti e titolari delle attività culturali e turistiche andando a individuare luoghi turistico-culturali non noti nel nostro territorio abruzzese e quindi cercando di coinvolgere il turista verso anche zone dell'entroterra e quindi meno conosciute da un punto di vista turistico. A descrivere gli aspetti più puramente tecnici è stato il presidente della Commissione Cultura della Regione, Luciano Monticelli. I territori coinvolti nel progetto sono ricchi di risorse del patrimonio naturale e culturale anche intangibile, spesso meno conosciute, che possono trasformarsi invece in destinazioni turistiche attraenti se gli stakeholder economici e gli enti pubblici collaboreranno in un sistema in cui no. Conoscenze ed esperienze verranno condivise al fine di migliorare l'attrattività e competitività dei territori. Per la creazione di questo sistema il progetto prevede la realizzazione di un percorso di cooperazione e accompagnamento dedicato ai partner coinvolti, agli stakeholder, alle piccole e medie imprese, agli enti pubblici, dei settori turismo sostenibile, gestione del patrimonio naturale e culturale, agroalimentare, artigianato e culturale. Il percorso prevede il coinvolgimento di un pool of experts composto da professionisti in grado di individuare all'interno del territorio di progetto le risorse a maggiore potenziale di sviluppo e di orientare l'attività dei singoli soggetti locali verso un sistema integrato di servizi per il patrimonio naturale e culturale. Tale percorso è il fine ultimo di elaborare almeno un itinerario turistico e di creare almeno un cluster integrato in ciascuno dei sei territori coinvolti nel progetto che garantisca una sinergia sostenibile delle potenzialità economiche dell'area. Dopo la tappa aquilana ci saranno due incontri il 9 e 10 maggio a Pescara.